Siamo di nuovo insieme, vi stiamo parlando delle novità Suzuki, andiamo lì a Sivarcar con Giacomo Iotti e Riccardo Cattani. Non gli piace. Sì, di nuovo buongiorno, non siamo più solamente io e Riccardo, ma c'è anche Stefano Ferrari che noi conosciamo già perché è il coordinatore di Ripuliamoci.it, gruppo che è già stato nostro ospite. Ma che Riccardo ci aveva raccontato nelle puntate precedenti che c'è stato un accordo fra voi, soprattutto all'interno della giornata per la terra. Ci raccontate, ancora facciamo un piccolo sommario su quello che è successo fra Sivarcar Suzuki e Ripuliamoci. Sì, allora, appunto come dicevi tu in occasione della giornata della terra, qualche giorno prima ovviamente Riccardo mi ha contattato e mi ha appunto chiesto di venire qua a trovarlo. Allora io molto volentieri, con grande sorpresa, sono venuto qui a trovarlo e ci siamo messi a tavolino e mi ha detto Stefano di cosa avete bisogno? E allora gli ho detto guarda noi adesso abbiamo bisogno di materiali di un certo tipo, lui si è messo a disposizione e ci è voluto un po' di tempo. Perché adesso, come diceva prima, non è un problema solo delle automobili avere le automobili in casa, ma anche i materiali che utilizziamo noi per la raccolta purtroppo ci vuole del tempo. Ci è voluto un po' di tempo ma il materiale è arrivato. Finalmente siamo venuti a suggellare questo nostro, diciamo, inizio di rapporto. Riccardo, che cos'è che vi ha mosso in questa collaborazione con Ripuliamoci? Allora, più che accordo si è intesa, perché comunque veramente noi, diciamo così, è una parte ecologica nostra personale di Suzuki, il fatto che per la giornata della terra Suzuki organizza a livello mondo tutti i concessionari a muoversi, diciamo, in un'iniziativa del genere. Era un momento particolare, nel senso che non si poteva fare una grossa iniziativa, se no veramente l'avremmo potuta anche organizzare diversamente. E quindi mi diceva, dai, facciamo una raccolta in zona, ci facciamo comunque, io ho coinvolto addirittura la famiglia, perché anche lì non si poteva fare diversamente. E quindi ho detto, beh, dai, iniziamo un progetto insieme, appunto, diciamo, una promessa di materiali, appunto, ci aveva avuto un pochettino di tempo, perché comunque è successo già da un paio di mesi, la roba è arrivata e oggi siamo qua a fare una consegna, non solo simbolica, ma realistica. Allora, io farei così, prima di guardare il materiale, di consegnarlo ufficialmente tramite questo Gini, che è perfetto per la consegna, perché ha un baule incredibile e poi, insomma, è fatto apposta per trasportare anche materiali in un certo senso. Vogliamo ricordare, Stefano, che cosa fa Ripuliamoci brevemente, per chi non lo sapesse. Sì, Ripuliamoci non è un'associazione, è un gruppo di cittadini. Ci siamo ritrovati sui social con questa idea di cominciare a ripulire la città. Ripulire perché ci rendiamo conto che un comune non può arrivare dappertutto e chiaramente ci vuole anche però lo stimolo dei cittadini. Quindi, prima di tutto, c'è la sensibilizzazione. Stiamo lavorando anche insieme ai bambini, con i campi scuola, e stiamo concludendo un campo scuola molto importante a Bagnolo, che è la nostra prima esperienza con i bambini. Quindi, insomma, da lì si vede veramente l'entusiasmo delle nuove generazioni, che saranno quelle che guideranno poi il nostro paese, il nostro futuro, diciamo. Quindi noi abbiamo iniziato così. Ci troviamo sui social, ci diamo appuntamento. Adesso, ovviamente, le raccolte le abbiamo rimandate, perché questo caldo è veramente insopportabile e non vorremmo rischiare di trovarci qualcuno che si sente male. Quindi abbiamo rimandato alla prima pioggia le prossime raccolte, quando la temperatura, insomma, si calmeranno un po'. E noi ci organizziamo lì sui social. Abbiamo un sito che è www.ripuliamoci.net, dove troviamo tutti gli appuntamenti, sia sulla piazza di Reggio, ma anche Parma, Modena e Bologna. E quindi, insomma, questo materiale serve per ripulire la città. Riccardo, a te l'onore di aprire il gimni ed eccolo qui, il materiale che viene consegnato direttamente nelle mani di Stefano, se volete anche avvicinarvi. Materiale che vediamo è fatto soprattutto di... perché sembra una cosa semplice in realtà andare in giro per la città e raccogliere, ma questi oggetti sono indispensabili per riuscire a fare al meglio il vostro lavoro. Esattamente. Queste sono delle pinze che servono appunto per raccogliere i rifiuti da terra, quindi per garantire prima di tutto la sicurezza delle persone, perché prima di tutto c'è sempre la sicurezza che parte sia dalla zona che scegli, ma anche dai materiali che utilizzi, quindi guanti per tutti sempre e pinze che servono appunto per raccogliere i rifiuti da terra, quindi evitiamo di gravare sulle schiene già doloranti e in questo modo abbiamo la sicurezza di raccogliere senza toccare le cose. E da qui le prendi e le metti direttamente nel sacchetto. Pinza ultraleggera, tra l'altro, che abbiamo per fortuna trovato grazie a un importatore, io ho suggerito a Riccardo questo tipo di importatore, ho detto comprare lì che funzionano. Ne abbiamo date via 200, se ne sono rotte solo due. Di alta qualità vi viene da dire. Eh sì sì, il connubio diciamo che ci sta anche su queste cose qua. Meglio diciamo investire su qualcosa di duraturo, come può essere anche le nostre Suzuki, un Jimny in maniera assoluta. Abbiamo dei mezzi di 30-35 anni che sono ancora in vendita con i libretti che non ci stanno più i passaggi, talmente giri hanno fatto, quindi su queste qua non faranno tutto questo lavoro qua, ma comunque insomma qualcosina di qualità rimane nel tempo. E poi però Riccardo vedo anche i vostri gadget Suzuki con queste bellissime magliette I love Suzuki e il porta scarpe. Speriamo di fare un contento un qualche ragazzino, qualche d'uno sicuramente. Beh anche perché a breve andremo proprio queste pinze in particolare, le stavamo aspettando con grande ansia perché abbiamo in programma nella prossima settimana con la gineria di Massimo Montanari Eugenia di fare una raccolta nel parco del Mauriziano. Quindi stavamo aspettando proprio questo materiale per poterlo dare a loro e quindi possiamo iniziare a far lavorare i bambini in sicurezza prima di tutto. E quindi siamo pronti per ripulire la città, per ripulire i campi estivi, per ripulire il nostro mondo grazie a Sivarcar Suzuki e appunto il gruppo Ripuliamoci. Complimenti per l'iniziativa, è bellissimo ed è stato bellissimo raccontarla assieme a voi qui per i nostri ascoltatori in diretta su Telereggio. Grazie mille. Susanna, te la linea. Prima di salutarvi volevo fare vedere la maglietta ufficiale di Ripuliamoci, ce l'abbiamo anche noi e ringraziamo per avercela portata e regalata gialla d'ordinanza. Sì, diceva Susanna che anche noi in studio abbiamo una maglietta di Ripuliamoci perché ce l'avete... Ne avete un sacco, io sto ancora aspettando le foto che avevo chiesto ai Banez, mi raccomando fate le foto, Susanna gli ho dato anche la sua... Facciamo qualcosa di più, le mettiamo in diretta? Beh, sarebbe bellissimo. Peccato che non vedo il video adesso che abbiamo perso il segnale ma me lo riguarderanno. Sono qui, sono qui, i nostri ascoltatori le stanno vedendo in questo momento. Grazie mille Susanna. Grazie mille, a presto e complimenti per queste iniziative così importanti anche per tenere pulita la nostra città.